Parliamo di Cocaine Orso. Devo essere sincero, io questo film lo attendevo, ma ho iniziato ad attenderlo solo dopo l'uscita del primo trailer, perché prima dell'uscita appunto del trailer io non sapevo nemmeno dell'esistenza di questo film, e appena poi è arrivato il titolo con il primo poster, non so per quale motivo, non chiedetemelo assolutamente, ho pensato a un film autoriale con un titolo un po' strano per attirare gente, non sapevo assolutamente della storia vera da cui è tratto questo film, perché poi è tratto, ma per pochissimo non c'è assolutamente nulla se non l'incipit della storia originale. Ora che però l'ho visto ieri sera in sala, posso dirvi che non è quello che mi aspettavo. È il primo film che vedo di Elizabeth Banks, che è un'attrice che conosco appunto solo come attrice, e forse è meglio che rimanga a fare l'attrice, perché sì, ok, non è che ci siano chissà che grandissimi problemi in questo Cocaine Orso, in questa regia, però sì, è molto molto scialba, non è che ci sia chissà che grande impronta, o comunque una struttura a tutti gli effetti stabile. Io se devo dirla tutta, mi sono sentito comunque intrattenuto in qualche modo, mi aspettavo notevolmente di più, mi sono ritrovato solo davanti a questo film, non so esattamente quanto duri, ma più di un'ora e trenta se la tira, ma per quanto mi riguarda non sono pesanti. Ho sentito dire che il film ha tantissimi problemi, e questo è vero, ci sono tanti problemi. Il primo è il tono molto indeciso, a volte sembra un film drammatico per alcuni personaggi, poi sembra un poliziesco, e poi arriva appunto ad essere quello che mi aspettavo, un film demenziale, e l'unica cosa che volevo vedere da Cocaine Orso era un film demenziale. Sicuramente non il dramma e non gli attoroni che se la credono tanto, però ho sentito nominare anche come problema l'orso, o l'orsa, in questo caso, perché appunto è una femmina. È stato detto che compare poco, è stato detto anche che a livello di CGI è realizzata in modo davvero obrobrioso, e sinceramente per me non è così, o meglio comunque, non è che sia chissà che grandissima CGI, però per quanto riguarda la comparsa, è comparsa per quel che doveva comparire. Anzi, compare veramente fin dai primi minuti del film, con un incipit divertente per quanto mi riguarda sul fattore cielo, non dico altro, però proprio la primissima scena mi ha divertito, anche perché fa riferimento a quello che è successo realmente, prendendosi gioco di un certo personaggio realmente esistito, e non è che sia chissà che grandissima cosa, ma non me l'aspettavo e mi ha fatto ridere, ma poi compare direttamente l'orsa nella scena successiva, con i due che fanno l'escursione e che vengono attaccati. Alcune volte non fanno vedere gli attacchi, c'è solo il risultato, comunque qualche rumore, così del genere, ma voglio pensare che abbiano voluto fare questa cosa un po' alla Jaws, allo squalo, quindi non fare vedere gli attacchi, ok, sto scherzando, sicuramente non era questa l'idea, è il budget, però sono soddisfatto comunque delle comparse dell'orsa. L'incipit, naturalmente, come potete capire dal titolo, è quest'orsa che entra in contatto con diversi panetti di cocaina e impazzisce. Nella storia vera, quella successa realmente, non impazzisce, non inizia a uscire tutti quelli che si trovano nel bosco, ma viene trovata morta un mese dopo, se non sbaglio, non credo che abbia fatto qualche omicidio quella, ma questo film ovviamente è finzione e quindi sono andati molto oltre. Ci sono diverse storie all'interno di questo cocainorso ed è una cosa che magari non è stata così geniale, perché distoglio un po' dallo spirito del film, appunto un film totalmente demenziale che è lì solo per far ridere, anche perché appunto alcuni personaggi se la credono veramente tanto, sembrando di star recitando in un film drammatico, in un film serio, cosa che cocainorso non è. Ok, io che ho pensato a un film autoreale leggendo il titolo, ma sono problemi miei. Questo ovviamente è un grandissimo problema della regia, di Elizabeth Banks, che non è riuscita a dirigere nel modo giusto alcuni attori, come per esempio, non ricordo adesso il nome, la protagonista, la madre, una delle protagoniste in realtà, perché poi ci sono appunto in diverse storie, in diversi protagonisti, come per esempio il poliziotto, anche la storyline dei trafficanti, in cui è inglobato anche Ray Liotta nel suo sfortunatamente ultimissimo ruolo, o almeno comunque uno degli ultimi, dico sfortunatamente non solo perché appunto è venuto a mancare, ma perché questo è il suo ultimo ruolo, ed il film è stato anche dedicato a Ray Liotta. Non è una cosa così positiva, soprattutto perché il suo personaggio è veramente scialbo, un villain bidimensionale a tutti gli effetti. Si sa già dove il film sarebbe andato a parare, come sarebbe finito, quindi soprattutto nei confronti di questo villain interpretato da Liotta, quindi le caratterizzazioni non sono un gran che, ma non è un problema, perché appunto il film non è questo, non è un film che ha bisogno di caratterizzazioni nei personaggi che muoiono perché muoiono, però se vuoi presentarmi un film demenziale, farlo per tutta la durata del film, non solo per qualche scena, solo per far ridere in quel momento, però come ho già detto io in qualche modo sono riuscito a trovare un senso di divertimento, di intrattenimento guardando questo film. Non è granché, non è assolutamente un buon film, però mi ha divertito. Non voglio nemmeno inserirlo nella lista dei miei guilty pleasure, perché non se la merita neanche, non è che mi fa veramente così piacere come film, però vedendolo per quel che è, chiudendo gli occhi su questi problemi alla regia, alla direzione degli attori e soprattutto nei toni del film, l'intrattenimento l'ho sentito. Ad un certo punto ho avuto un po' un flash totalmente a caso di I morti non muoiono di Gene Jarmusch, ovviamente molto meno autoriale di quel film. Non ricordo esattamente la scena, ma era dentro una casetta, qualcosa del genere, e ho avuto un flash in quel momento di I morti non muoiono, una delle scene appunto con Bill Murray e Adam Driver. Bel film, I morti non muoiono, se non l'avete visto recuperatelo. Direi di passare velocemente a una piccolissima parte spoiler finale, solo per dire qualcosina, magari appunto l'inizio del film, la cosa che mi ha fatto ridere veramente a inizio film, e parliamo un po' del finale, ma andiamo velocissimo, perché non è che ci sia così tanto da spoilerare, quindi se non avete visto Cocaine Orso e volete andarlo a vedere, uscite dal video e tornate solamente dopo aver visto il film, perché gli spoiler iniziano tra 3, 2, 1. Come primissima cosa appunto parliamo dell'inizio. Vediamo il tizio, non ricordo nemmeno il nome del... non so se l'hanno chiamato come nella realtà, fatto sta che non ricordo nessuno dei due nomi. Il tizio che effettivamente doveva fare la consegna di cocaina, però nella realtà non gli si è aperto il paracadute, morendo miseramente, quindi spargendo questi panetti un po' per la foresta, e questo ripeto è la realtà, mentre a inizio film, in questa introduzione, ci viene fatto vedere che non solo non gli si apre il paracadute, ma non gli si apre perché è così stupido, quindi si prendono gioco di questo personaggio, di questa persona esistita realmente, è così stupido da saltare e sbattere la testa, quindi svenire con il portellone dell'aereo. Ecco perché non si è aperto il paracadute. A me questa cosa veramente ha fatto ridere. È una cacata, ma mi ha fatto ridere. Una parodia, una presa per il culo all'intelligenza, o comunque alla stupidità in questo caso, di quest'uomo che ha fatto una cavolata, tralasciando appunto la perdita dei panetti, ha avuto la fine che meritava. Perché se non sbaglio era un ex poliziotto, impazzito, recidivo, tra l'altro con droghe e robe varie. Una cosa che non ho detto nella parte no spoiler del video, la violenza. La violenza secondo me è realizzata bene. Alcune cose sono fatte anche non solo in CGI, e la cosa risulta meglio perché la CGI sull'orso ogni tanto traballa, ma per lo più è buona, mentre quando si vede qualche scena gore splatter in CGI si nota subito. E fortunatamente però queste scene sono per lo più con effetti speciali, quindi con roba tangibile. E sinceramente il risultato non è male. Passiamo al finale, non voglio parlare delle diverse trame che mi hanno in realtà annoiato, io volevo solamente vedere l'orso uccidere gente, quindi non mi interessava assolutamente della madre che doveva cercare i figli, la figlia. Però appunto a fine film si scopre che l'orso in realtà è un orsa, l'ho detto in realtà nella parte no spoiler, ma non se ne frega nessuno, non è un colpo di scena così wow, e ha i cuccioli dalla sua parte che sniffano, hanno preso tutto dalla madre e iniziano a sniffare, a mangiare i panetti anche loro, e impazziscono anche loro proprio come la madre, quindi anche essendo però comunque piccoli non riescono a fare chissà che grandissime cose. Nonostante tutto attaccano gli spacciatori, i trafficanti, il figlio del personaggio di Ray Liotta si ribella al padre, così, perché sì, e questo boss trafficante muore. Non che freghi niente a nessuno in realtà, perché a parte il fatto che mi dispiace veramente che sia interpretato da Ray Liotta, è un personaggio molto 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 scialbo, lavato, non saprei come dire. C'è poi la storia tutta poliziesca con il poliziotto nero, o la poliziotta che si scopre in realtà essere infiltrata, una trafficante, altro colpo di scena che è veramente chi se ne frega, anche perché non cambia assolutamente nulla dopo questa rivelazione, e nient'altro in realtà. Ho finito qui il mio pensiero riguardo Cocaine Orso. Ripeto ancora una volta, a me il film comunque è riuscito a intrattenere, non so come, ma mi son sentito intrattenuto per questa ora e mezza, non so appunto quanto duri. E questo a livello soggettivo, perché a livello oggettivo sento, e si capisce abbastanza, che non è un buon film, perché c'è discontinuità nel ritmo, nel tono della presentazione dei personaggi, e anche proprio dei momenti. Ci sono dei momenti che sembrano drammatici in un film che non dovrebbe esserlo. Alcuni personaggi di cui assolutamente non ricordo i nomi, quindi un altro malus al film, sono antipatici, antipatici, molto antipatici, e non sono fatti per essere antipatici, per esempio la madre, la madre è insopportabile, dovrebbe essere la protagonista, quindi non insopportabile, e nient'altro. È stato rivelato che ci saranno altri film Cocaine qualcosa, per esempio arriverà a luglio solo in digitale Cocaine Shark, cocaino squalo, non saprei come tradurlo in italiano, spero non arrivi mai in Italia, è una cagata a tutti gli effetti, fatto con gli squali, in stop motion, una stop motion fatta malissima, ovviamente, non so se è prodotto in qualche modo dalla Universal, che ha prodotto questo cocaino orso, spero di no, perché, che schifo, non vi invito assolutamente, che tra parentesi significa, andate a guardare il trailer di questo Cocaine Shark, perché, per farvi capire solamente che schifo, effettivo, uscirà a luglio, e, rivaluterete, se questo cocaino, se questo cocaino orso non vi è piaciuto per niente, rivaluterete assolutamente il film, però vediamo se con il passare del tempo arriverà, non so, un cocaine horse, cocaine cow, cocaine bird, non lo so, io di sicuro non li guarderò, ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto, cosa ne pensate voi di questo film, se vi è piaciuto oppure no, fatemi sapere appunto tutto con un commento, perché sono liberi, se volete fare spoiler, mi raccomando, contrassegnate il commento con la dicitura spoiler, poi lasciate qualche spazio per non rovinare la visione, che è grande visione, a chi ancora il film non l'ha visto, vi ricordo ancora una volta che in descrizione ci sono tutti i link importanti, tra i miei social, il link di pampling con il codice ilpensiero4 per avere un paio di calze gratis a scelta, c'è anche il link del Fantasia Store, dove potete trovare Funko Pop, giochi in scatola, carte collezionabili e tanto altro, e con il codice Andri5 avrete il 5% di sconto su tutti i prodotti non già scontati del sito, entrambi i codici sono illimitati e potrete usarli quindi verso l'infinito e oltre, e vi ringrazio perché supporterete il mio canale, e niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale, Andri passa e chiude, ciao!